Swyte permette di impostare una privacy policy e il cookie banner all'interno del tuo sito web. I testi della privacy policy e del cookie banner devono essere redatti da un tecnico, un legale o da servizi specifici. Si tratta infatti di testi non forniti dal servizio Swyte. Swyte non è quindi responsabile di questa tipologia di informazione. Una volta loggato a Swyte, accedi alla gestione del sito. Clicca sulla sezione Impostazioni sito. Seleziona la scheda Legale. Per impostare la privacy policy, clicca sul pulsante Scegli. Il sistema ti permette di caricare un file contenente la policy. Vale a dire un documento che include tutte le più complete informazioni su come proprietari del sito ed operatori ad esso connessi raccoglieranno, archivieranno, utilizzeranno e proteggeranno i dati personali forniti dagli utenti in navigazione. In alternativa, indica un link a cui verrà reindirizzato il visitatore del tuo sito web. Per configurare il cookie banner, verifica il testo del banner riportato nella sezione indicata e nel caso modificalo. Clicca sul pulsante Scegli per caricare un file contenente la policy o in alternativa indica un link a cui verrà reindirizzato il visitatore del tuo sito web. La sezione ti permette inoltre di selezionare le categorie dei cookie e per ognuna di esse di indicare il titolo e la descrizione, cliccando sul tasto più posto accanto. Non è necessario salvare, in quanto il sistema esegue il salvataggio automatico delle informazioni inserite. Grazie a tutti.